In questo video vi parlerò di flat tax. Che cos'è la flat tax? Si pagano meno imposte con la flat tax? C'è un risparmio di tasse? La flat tax o tassa piatta è un'imposta proporzionale al reddito con una liquota fissa, costante e non progressiva, cioè che non aumenta all'aumentare del reddito. Per indenderci, con la flat tax abbiamo una sola liquota al 15%. La tassa piatta si contrappone all'IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche, che invece è progressiva e per scaglioni, cioè con aliquote che aumentano all'aumentare del reddito. Infatti le aliquote IRPEF vanno dal 23% al 43%. E allora, con la flat tax si pagano meno tasse? Dipende. Dipende da cosa? Dipende dalla base imponibile utilizzata per calcolare l'imposta. E che cos'è la base imponibile? La base imponibile è l'importo su cui viene calcolata l'imposta. Il 15% di quale reddito? Il 15% su quale base imponibile viene calcolato? Normalmente, al fine di quantificare il reddito imponibile di un'impresa, si sottraggono tutti i costi derivanti dallo svolgimento dell'attività al fatturato complessivo. Poi si sottraggono gli oneri reducibili, l'anotax area, nonché le deduzioni per oneri. E quindi, su questa base imponibile, si calcolano le aliquote IRPEF progressive e per scaglioni che vanno dal 23% al 43%. Quindi, se utilizzassimo la stessa base imponibile per calcolare sia la flat tax che l'IRPEF, con le stesse deduzioni e detrazioni, è chiaro che con la tassa piatta c'è un evidente risparmio d'imposta. Se invece, per calcolare la flat tax, utilizziamo una base imponibile diversa, cioè un reddito calcolato come nel regime forfettario, anche il risultato cambia. Effettivamente, uno degli aspetti principali che caratterizza il regime forfettario è il calcolo del reddito imponibile. Quando si aderisce al regime forfettario, il calcolo delle imposte dipende in modo diretto dal coefficiente di redditività. Quest'ultimo non è lo stesso per tutte le attività, ma cambia sulla base del codice ATECO. di riferimento dell'attività svolta. I coefficienti di redditività variano dal 40% all'86%. Ad esempio, chi esercita un'attività di ristorazione ha un coefficiente di redditività del 40%. In questo caso, il reddito imponibile non è dato dalla differenza tra ricavi e costi, ma è calcolato con la percentuale del 40% sui ricavi annui. Cioè, se i ricavi annui sono pari a 100.000 euro, calcoliamo il 40% e troviamo un reddito imponibile pari a 40.000 euro. Su questo reddito imponibile, calcoliamo la tassa piatta del 15%. Invece, la percentuale di redditività di un'impresa edile è pari all'86%. Quindi, come nell'esempio, se calcoliamo l'86% di 100.000 euro di ricavi, il reddito imponibile risulta pari a 86.000 euro. In questo caso, il 15% di flat tax viene calcolato su 1.86.000 euro. In questi esempi, il totale dei ricavi annui è sempre lo stesso, 100.000 euro. Ciò che cambia è la percentuale di redditività e quindi cambia la base imponibile. Infatti, il 15% di 40.000 euro sono 6.000 euro. Attività di ristorazione. Invece, il 15% di 86.000 euro sono 12.900 euro. L'impresa edile. Comunque, nei due casi, la base imponibile non corrisponde al reddito effettivo. Ma è un reddito calcolato in modo forfettario, utilizzando, appunto, delle percentuali di redditività. Ma qual è il reddito effettivo delle due attività? Se supponiamo che la base imponibile IRPEF di entrambe le attività è uguale a euro 20.000 euro, Le due attività devono versare o avrebbero dovuto versare sul reddito di 20.000 euro 4.700 euro di IRPEF Contro i 6.000 euro di imposta piatta per l'attività di ristorazione e addirittura i 12.900 euro per l'impresa edile. In conclusione, si risparmio o no con la flat tax? Dipende. Dipende dalla base imponibile utilizzata e dal reddito imponibile, quindi. Quindi, con la stessa base imponibile, il risparmio è evidente. Dipende solamente dalle aliquote. Da una parte abbiamo la flat tax o tassa piatta al 15% e dall'altra abbiamo le aliquote IRPEF che vanno dal 23% al 43%. Invece, utilizzando diverse basi imponibili, il risparmio dipende invece dalla percentuale di redditività per calcolare il reddito imponibile. Ovvero, più il coefficiente di redditività è alto e si avvicina al fatturato annuo e quindi si distanzia dal reddito effettivo e meno è conveniente la flat tax rispetto all'IRPEF. Più invece il coefficiente di redditività si abbassa o comunque si avvicina al reddito effettivo e più la tassa piatta diventa più conveniente rispetto all'IRPEF. e con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto a tutti.